ciao a tutti ragazzi ciao amici come state? ciao amici come state? tutto a posto? o sono tornata? benvenuti in questo nuovo video con Bebi allora questo è un video dedicato per ringraziare una persona, ovvero Asia che mi ha fatto un regalo dalla wishlist allora vi leggo il bigliettino ti seguo da poco ma ho i tuoi smr insieme a Bebi e quindi ho deciso di farti questo pensierino da Asia grazie mille grazie Asia, gentilissima e mi ha regalato che io ho già sbaccato però ho ottenuto la scatolina un siero per le ciglia che sto utilizzando tutte le notti io spero faccia davvero qualcosa e insomma in questo video per ringraziarla sotto sua richiesta risponderemo alle domande che ci avete fatto voi mentre fumiamo come sempre per la fine allora iniziamo allora 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 intanto Bebi vuoi ringraziare degli auguri per il compleanno sì grazie mille a tutti per gli auguri del compleanno soprattutto chi si è ricordato davvero grazie è stato molto piacevole ricevere i vostri messaggi allora iniziamo con voglio sapere il vero nome di Bebi è un mistero che mi tiene sveglia la notte lo vuoi dire lo riveliamo mi chiamo Rebecca Rebecca lo direste mai secondo me è noi secondo me si chiama Bebi e basta poi da quanto state insieme stiamo insieme da tre anni per mia disgrazia ma non è vero mai se poteste scegliere un super potere da avere quale sarebbe perché il mio sarebbe l'invisibilità credo perché secondo me è una figata puoi fare tutto quello che vuoi senza essere visto scoperto puoi veramente fare di tutto e di più cosa avresti ruberei tipo nei negozi sai che divertimento puoi fare un sacco lo scampetto alle persone che mi stanno sui coglioni li butterei a terra gli tirerei un pugno volante così tanto non sanno che sono io alla fine allora io invece più pratico vorrei il teletrasporto perché odio viaggiare per spostarmi in maniera molto più veloce insomma ahia mi hai bruciato scusa andiamo avanti come vive Bebi la tua estrema sensibilità male no all'inizio la vivevo un po' male ma perché all'inizio era anche molto timida dunque ma non male la vivevo che non sapevo tanto come prenderla in realtà mentre adesso dopo tre anni di relazione diverso ormai ho capito com'è fatta so che per ogni singola cosa si emoziona o piange o va in panico le viene l'ansia insomma ho imparato a gestirla ecco diciamo che ci sono lati positivi e negativi penso come di tutto sì per esempio l'altra sera abbiamo visto un film per bambini quando pianto e mi prendeva in giro fortissimo un esempio così molto bello come film si chiama if se volete vedere gli amici immaginari molto carino con ryan 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 poi quando avete fatto coming out con le vostre famiglie se ognuna di voi potesse dire qualcosa alla sé del passato cosa sarebbe allora ho fatto coming out che avevo 16 anni 17 anni con mia madre ed è stata una cosa molto tranquilla in realtà le ho detto beh mamma lo sai la mia amica ecco non siamo amiche è lei che ti ha detto e mia mamma mi ha detto lo sapevo immaginavo è stata una cosa molto tranquilla molto easy per cui sì niente di che in realtà anche io più o meno la stessa età mi sa 16 forse e prima di tutto l'ho detto mio fratello mi sa e poi mio padre mia mamma poverina è stata l'ultima a saperlo però tranquillissimi e se potessi dire qualcosa alla testessa del passato probabilmente stai tranquilla che tutto andrà al suo posto nel senso sì va bene avere ansia e tutto ma non ti preoccupare perché tanto si sistemerà tutto in un modo o nell'altro dunque sì stai tranquilla non non rimucinare troppo su quello che accade perché tanto servirà tutto a qualcosa di più grande io non lo so sono molto negativa forse direi cioè le cose ti sembreranno diverse ma alla fine sono sempre uguali è una cosa che si ripete in continuazione ha senso nella mia testa ok poi ora che sei da un po' in veneto hai fatto nuove amicizie un saluto in anticipo papì ciao allora no ho fatto un'amica nuova che è una sua amica vecchia quindi non ha senso comunque amica è una nuova amica per me nuova amica per te allora saluta un'amica ciao vi piace viaggiare se sì in compagnia di amici o solo voi due sì mi piace viaggiare almeno un tanto in compagnia di Giulia sinceramente anche perché non ho amici per cui pure io poi sembra un casino viaggiare con gli amici sì secondo me si creano un sacco di litigate di cose per cui beh spero che prima o poi riusciremo a fare un viaggio io e lei perché non l'abbiamo mai fatto ancora ancora no anche perché abbiamo le bambine c'è il cane e il gatto è difficile è un po' complicato con loro c'è Giud qua davanti a noi che sta ronfando in un modo proprio è K.O. le piace un sacco sentire l'SMR quando faccio i video sicuramente davanti a me perché c'è il letto dietro di voi mi guarda finché non si addormenta vorreste avere dei bambini in futuro no 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 grazie non mi piacciono i bambini né quelli degli altri né tanto meno se fossero miei per cui su questa cosa sono categorica finché finché sono degli altri secondo me sono carini però dipende sempre dal bambino come dipende dalle persone no ai bambini ragazzi più che dai bambini diciamo sia agli animali no ai bambini palese però più dei bambini secondo me dipende dai genitori beh quello palese i genitori sono una merda quando i bambini sono una merda come vi vedreste beh come i cani non esistono cani cattivi solo padroni esattamente come vi vedreste tra dieci anni no eh non lo so spero felice piena di soldi con Giulia ancora sì piena di soldi va bene ci sto e in pace con me stessa direi quello sì sicuro e poi come vi trovate nella città nuova e con il lavoro beh all'inizio è stato un po' un trauma un trauma per entrambe perché per lei era una città nuova per me è stato il fatto di tornarci dopo quasi un anno di tempo per cui è stato un trauma per tutte e due piano piano ci siamo abituate adesso siamo abbastanza postate diciamo con il lavoro tutto ok stressante stancante ma ti piace? questo lo lascio perché sembri antaro sì mi piace il lavoro è molto bello i colleghi sono tutti buoni carini per cui sono fortunata dai beh io ho la fortuna di lavorare da sola quindi c'è fortuna e sfortuna non lo so e quindi sì è sempre lo stesso lavoro ma mi piace spero di poterlo fare per sempre nella città nuova sì come ha detto baby progetti per il futuro sempre quello di prima trovare un po' di pace con me stessa può starci un po' meglio insomma non che mi lamento insomma però poi ultime domande della stessa persona una persona odierna famosa e una del passato con cui andreste a cena allora del presente ma scinganchelli assolutamente perché secondo me sarebbe da divertirsi da pazzi del passato la principessa italiana invece allora io del passato ma non del passato perché non c'è più in realtà è del presente però è morto ok e Robbie Williams e del presente secondo me Harry Styles non lo so mi fa ridere è un po' lento modello di macchina preferito e Chevrolet Impala concordo vi piace guidare o vi spaventa mettervi alla guida io non ho la patente e non voglio assolutamente avere la patente per cui dico che mi spaventa metti i cacchi sotto mi cago sotto io ho la patente e guido solo l'automatica quindi non ho la patente praticamente e si fa un po' paura a guidare però avete detto in alcuni video che non avete avuto un buon rapporto con la scuola vi piacerebbe riprendere a studiare l'università in futuro se si che facoltà scegliereste beh a me gli ultimi anni di scuola sono piaciute un sacco ovvero quelli del serale e li rifarei mille volte mentre quelli più indietro tipo elementari asilo medie e le superiori prima del serale non le rifarei mai no per quanto riguarda invece una facoltà che sceglierei se dovesse andare all'università sarebbe criminologia che mi piacerebbe un sacco però non ho intenzione di andare all'università assolutamente allora io non rifarei la scuola ancora c'ho gli incubi della maturità e del liceo in generale dopo non so quanti anni ormai sono passati cinque anni forse ormai quindi no grazie e università non credo di avere la testa per fare una cosa del genere almeno non al momento e farei però in caso o film cinema o psicologia o criminologia anche io la compagna di corso io e te ci sta ci sta va bene allora le domande sono finite e quindi mi sa anche il video anche il video ragazzi è stato bellissimo passare del tempo con voi finché è durato finché è durato allora grazie ancora ad Asia per il regalino e niente il video è finito quindi ci vediamo nel prossimo video ma intanto vi auguriamo una buonanotte oggi ciao buonanotte 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 buonanotte